Il rima sempre in avanti Se no un addivente mare Naro Buona domenica ed eccoci anche oggi ritrovati al quotidiano spazio dedicato all'informazione Un barcone che è naufragato Vi erano imbarcate 250 persone Fino ad ora sono stati recuperati 34 corpi Mentre i soccorritori hanno strappato dal mare 206 naufraghi Quanti persone? 250 Vini posti Vini posti E un caldo Vini posti